Charlotte! Charlotte! Scusate, permesso? Lui è il senatore di Stato Jack Rotwell e vorrebbe farti delle domande a proposito della tua invenzione. Eh, ok, ma non sono sicura di poter... Charlotte, due dell'FBI stanno arrivando per farti un sacco di domande. Charlotte, non ti vorrei, non ti vorrei, non ti vorrei, non ti vorrei... Giosper, dove sei finito? Sono qui fuori, ho trovato un travestimento nel cassonetto. Ok, adesso entra e attieniti al piano. Posso eliminare qualcuno? Non puoi eliminare nessuno. Mi stanno inseguendo, mi serve un posto dove nascondermi! Ah! È un criminale, aiuto! Qualcuno faccia qualcosa! Io farò qualcosa! E io farò qualcosa con lui. Papà, guarda! Sono Capitan Man e Kid Danger! Ehi, adesso che faccio? Corri al tavolo di Charlotte. Giusto. Quest'uomo non riuscirà mai a fermarmi! Resta fermo dove sei? No, io non resterò fermo da nessuna parte! Signore, l'hai esorto ad arrendersi subito. Scordatelo! Ok, questo è davvero troppo. Andiamo a prenderlo! No, il marchiginio no! Perché ti ha colpito così forte? Oh, no! È una riscia veramente insolita! Ne credi anche tu? Mi avete preso! Basta! Mi avete preso! Oh! 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 Ma... Stai bene, tesorino! Allora, teffista! La tua prossima fermata è... Il carcere! No! Io odio il carcere! Oh! Oh, il mio bel progetto è stato danneggiato. E si può riparare? Danno irreparabile. Ma avrai sicuramente conservato i tuoi bozzetti. Potresti anche ricrearlo? No, i miei bozzetti si sono persi. Beh, però dovresti ricordare come hai fatto. Sì, e con il tempo sono certo che potresti ricrearlo. E io ho la prossima memoria. O magari potresti... Vado. Mato? O forse potresti... Ma perché fa così? Non c'era bisogno di colpirmi così forte.